Salusa 18 Aprile 2011. Restate a testa alta mentre il piano per l'ascensione si avvia verso la conclusione finale. In futuro, ci saranno tempi difficili da attraversare, ma saranno seguiti da cambiamenti vantaggiosi per tutti. Per molti anni, il piano aveva previsto di innalzare il vostro livello, e poi fu modificato per adeguarlo alle diverse situazioni verificatesi. Parte di tali modifiche deriva da una migliore comprensione delle vostre necessità in modo da offrire correzioni adatte alle vostre circostanze. Per strano che possa sembrare, dobbiamo concedere anche delle attenuanti alleazioni degli oscuri perché, entro certi limiti, anche loro usufruiscono del libero arbitrio. In ogni caso, il loro tempo è quasi del tutto scaduto, mentre tuttora tentano di ostacolare e bloccare la nostra attività. Essi sono al corrente di quanto programmato per voi perché da noi informati, ed hanno chiaramente dichiarato che non permetteranno interferenza alcuna da parte dei nostri alleati. Questi ultimi sono da noi protetti e guidati per svolgere il loro ruolo nel presentare i tanto attesi cambiamenti. I diversi aspetti dei cambiamenti previsti sono a buon punto, non ma essendo di enorme portata e interessando il mondo intero, comprenderete quanto importante sia la scelta del momento giusto. Ciò è specialmente importante per i cambiamenti finanziari, perché la loro rapida applicazione necessita la completa accettazione e il pieno supporto. Il risultato finale sarà che il vostro denaro sarà sicuro e non più soggetto alle tante fluttuazioni valutarie, che finora hanno potuto svalutare mediante traffici illeciti, non potranno più farlo, e finalmente gli investimenti diventeranno affidabili. Una nuova moneta è pronta per essere emessa e manterrà inalterato il valore perché sostenuto da metalli preziosi, non sarà più consentito stampare moneta senza tale supporto. Un accordo in merito è stato accettato, perché è considerato l'unica via d'uscita dal precedente disastro finanziario, causato da un sistema bancario irresponsabile. Ci sono state molte pratiche illegali, e chi per questo motivo ha perso tutto, sarà indennizzato. Una volta che tutto il sistema sarà rimesso in sesto, il patrimonio finanziario sarà ripartito equamente, affinché tutti possano beneficiare della prosperità, che ne deriverà. Tutto è stato impostato affinché, avvicinandovi all'ascensione, possiate già godere dei benefici, che vi attendono. Come vi abbiamo spesso detto, la vostra esistenza sarà del tutto diversa dall'attuale. Otterrete abbastanza rapidamente la felicità, che cercate ed il benessere, cui avete diritto, questo colmerà il divario ora esistente e vi farà passare dall'indigenza all'abbondanza, in qualsiasi modo la si intenda. L'aspetto più gradito sarà di scoprire di aver abbastanza tempo libero da dedicare agli interessi e agli svaghi personali. Non esisterà più una distinzione di classe tra chi ha e chi non ha, perché tutti saranno considerati alla pari quando si tratta di condividere il frutto del lavoro. Del resto, gran parte del lavoro sarà automatizzata ed i computer tanto avanzati da richiedere pochissimo tempo da parte vostra. Il tempo libero e gli interessi creativi vi daranno ampie possibilità di sviluppare le capacità personali, persino quello che chiamate lavoro diventerà soddisfacente e gradevole e mai più ingrato o noioso, come spesso ora accade. Pertanto, carissimi, tenete gli occhi fissi sul futuro, senza preoccuparvi d'eventuali perdite, che potreste subire adesso. Tutto sarà compensato e ne uscirete molto più felici e fiduciosi di prima. I giovani saranno educati ed aiutati in modo da poter dar loro esattamente quanto occorre per farli progredire, non saranno più immessi tutti in uno stesso sistema, ma ciascuno riceverà un'istruzione più personalizzata. Infatti, si avrà cura di indirizzarli conformemente al loro progetto di vita contemplato. L'orientamento sarà di favorire le tendenze personali piuttosto che un'istruzione obbligatoria uguale per tutti. Anche i metodi cambieranno in modo da evitare la necessità di interminabili ore passate a sgobbare o a sostenere esami. Le informazioni saranno assorbite dagli studenti e da loro conservate per essere, all'occorrenza, immediatamente utilizzate. Non dimenticate che, con il passar del tempo, i livelli di coscienza si stanno rapidamente estendendo e che, quindi, l'apprendimento deve cambiare in conseguenza. Pensate che meravigliosa occasione sia, dopo centinaia di migliaia d'anni trascorsi in esperienze terrestri, stare per essere ora liberati dalle dimensioni inferiori. La realizzazione di voi stessi la troverete nelle dimensioni superiori, che sono la vostra vera dimora. Si parla di inferno, ma in realtà in gran parte esso è stato creato da voi stessi ed esiste solo sulla Terra. Ormai potete lasciarvelo alle spalle perché, una volta elevate le vibrazioni, non potrà più toccarvi. Grazie alla legge d'attrazione sarete attratti verso la Nuova Terra, facendo parte delle energie e creatrici che stanno portando alla sua manifestazione. Nel 2012, quando finalmente avverrà l'ascensione, soltanto coloro le cui vibrazioni sono molto alte, potranno essere elevati insieme alla Nuova Terra. Le anime che per vari motivi hanno deciso di fermarsi nella terza dimensione, vi rimarranno per continuare la loro evoluzione. In qualche epoca futura, si presenterà nuovamente per loro l'opportunità di ascendere, ed in tal modo il ciclo della vita si perpetua. In tutto l'universo, la vita, nelle sue varie forme, evolve di continuo e niente si mantiene a lungo immutato. Come avete già appreso, la trasformazione è l'unica costante esistente, inclusa nel respiro-inspirazione ed espirazione proveniente dalla sorgente. Il Creatore ha istituito delle regole e, attraverso le vostre esperienze, tutto si manifesta all'interno della creazione. I misteri della vita sono troppo grandi perché possiate comprenderli appieno mentre siete ancora nella coscienza limitata. In ogni modo, a tempo debito, passerete attraverso le dimensioni, fino a raggiungere il punto della piena conoscenza e comprensione. Ad ogni fase del vostro recupero, vi è dato quel che si considera appropriato per ritornare al livello in cui eravate prima di entrare nelle dimensioni inferiori. La verità non vi è quindi estranea e, apprendendola, la sentirete risuonate in voi. È ovvio, che dovete avere una mentalità aperta ed essere preparati a liberarvi di alcune credenze cui tenete. Nella vita di gran parte della gente, ci sono stati periodi dedicati soprattutto all'apprendimento, in cui gli insegnamenti erano impartiti ed accettati, perché provenienti da persone, che consideravate vostri superiori. Il risultato è che facilmente avete sviluppato una mentalità rigida, in cui è difficile penetrare. Siate audaci e curiosi e, se c'è una fonte, che vi ispira fiducia, usatela come misura per qualsiasi informazione, che sostenga il contrario. State vivendo tempi molto importanti per voi ed il vostro immediato futuro, di conseguenza, cercate di sapere con chiarezza come lo desiderate, sperando si tratti dell'ascensione. Inviamo a voi tutti il nostro amore, affinché vi assista nelle fasi finali del vostro percorso verso l'età dell'oro. Grazie, Salu Sà. Miqui Quin 6. Traduzione Cio Stanza 2003